Presidente Giovanni Lolli, si è conclusa la vertenza Rolli di Roseto? Sì, la vertenza salpa per l'esattezza, si è conclusa positivamente, è stata durata otto mesi, è stata una cosa molto complessa, si è conclusa di ringraziare intanto la RSU, i lavoratori, le rappresentanze sindacali, l'azienda, la Confindustria e la Confagricoltura che ci hanno aiutato e soprattutto anche il Comune di Roseto. Tutti quanti hanno lavorato a creare le condizioni perché questa azienda, vorrei ricordare a tutti, parliamo di un'azienda che dà lavoro a più di mille abruzzesi, quindi è una delle principali aziende della nostra regione e soprattutto è un'azienda che ha fatto una scelta, io l'ho definita una scommessa molto importante, e cioè la scommessa associando 330 soci, che sono 330 allevatori, coltivatori, la gran parte dei quali sono abruzzesi, quella cioè di uscire sul mercato con un prodotto molto certificato che esce sul mercato con un costo maggiore rispetto alla concorrenza, ma che però punta tutto sulla qualità e sulla sostenibilità. Questo gli sta dando una grande visibilità sul mercato internazionale, oggi Rolli è il primo esportatore italiano e soprattutto adesso sul mercato americano si sta lanciando con bellissime prospettive. Da questa nostra vicenda viene fuori un sistema di relazioni sindacali più continuo, più ordinato, che funziona meglio, serve ai lavoratori per essere più garantiti, ma serve anche all'azienda per avere una maggiore collaborazione.